Finita la fase di emergenza, inizia la mappatura dei danni causati dal maltempo che ha colpito Pesaro e l'intera provincia. Per supportare la stima, il Comune ha predisposto un servizio rivolto ai cittadini che da oggi possono compilare un modulo dedicato descrivendo il tipo di danno subito e una stima utile a una prima ricognizione. Il tutto con foto che possono essere associate ad una mail apposita che è stata predisposta. Garage, cantine, appartamenti al piano terra, negozi, fabbriche e quindi davvero la conta dei danni è tanta per questo abbiamo chiesto lo stato d'emergenza. Tutta la provincia di Pesaro Urbino ha bisogno di aiuto perché questa volta la solida non ce la facciamo. Per riparare i danni uno snodo decisivo sarà la concessione o meno dello stato d'emergenza che sarà deliberato martedì dal Consiglio dei Ministri. Una richiesta avanzata da Ricci, da Paolini ma anche da Palmirucchielli in qualità di Presidente dell'Unione Pian del Bruscolo al cospetto dei danni ingenti per strade, impianti pubblici, aziende e abitazioni private. Richiesta di stato d'emergenza che questo pomeriggio è stata ufficialmente firmata dal Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli alla luce dei tanti disagi e danni rilevati. Una richiesta che arriva all'indomani della mozione urgente presentata dal Consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Biancani. Ho presentato questa mozione appunto per chiedere al Presidente Acquaroli di attivarsi immediatamente per richiedere appunto lo stato d'emergenza anche perché i danni sono stati veramente molto ingenti. Ieri pomeriggio ho profittato per andare a fare alcuni sopralluoghi e devo dire che sono tante le abitazioni che hanno avuto danni, garage ma anche tante le imprese, le attività commerciali. Basta pensare alle concessionarie che ci sono lungo lo statale, dalla Opel alla Land Rover, i danni che ci sono avuti lungo il litorale, gli impianti sportivi, quindi parliamo di milioni e milioni di danni ai quali sicuramente non riuscirà a far fronte né la provincia né il comune anche perché sia la provincia che il comune hanno avuto i danni loro e quindi anche loro avranno bisogno di risorse per poter sistemare tutti i danni che hanno avuto. Richiesta di stato d'emergenza che ha come prerequisito quello dell'approvazione per poi essere sostenuta anche da tempistiche adeguate. Ricordo che ancora ad oggi non sono stati definiti i criteri per l'assignazione dei fondi per il terremoto, l'ultimo terremoto che c'è stato, sono passati mesi e ancora i cittadini non sanno come verranno ripartiti i fondi nonostante stato riconosciuto lo stato d'emergenza e addirittura per quanto riguarda l'alluvione che ha riguardato gran parte del nostro territorio, facciamo riferimento ad esempio a Cantiano, anche lì diciamo che nelle tasche degli imprenditori o dei cittadini i soldi ancora non sono arrivati.